Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su GTA 5 Pallotti per un'altra partitozza Guardate bene il mio ferro ragazzi Luci blu super potenziata Al massimo E' una belva Ok siamo pronti per andare a farci un'altra missione Andiamoci subito Allora E' qui vicino Attento che mi graffio subito la macchina Ok ci siamo ragazzi Siamo arrivati Scendiamo dal ferro Parcheggiamo il ferro Allora lasciamo qui va bene Che sta succedendo qua Ma perché devo usare questa macchina Ok uccidiamoli Potevo usare la mia Porca miseria Perché si è avvicinata a questa Ok via l'inseguimento No non ci credo Non ci credo Non ci credo Via l'inseguimento All'inseguimento All'inseguimento Ok 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 Non sono molto lontani Non sono molto lontani Ma se usavo la mia Facevo molto prima Ok Ok sono di qua Sta facendo la curva Questo che cavolo fa Lo sta facendo Mamma mia ragazzi Che guida pessima Ok ci siamo Ci stiamo avvicinando Levati dalle scatole Ok Mori bastardo Ok Pensavo fossi un tipo duro Gli ha dato un cazzotto Non è stato morto Ma tu non puoi sentire Niente Ah Tu mi stai spaventando Bolle Rumprunner Ma Parlando di accidenti Questi ragazzi Havano uno Oh se solo Siamo incontri 20 anni Michael Magari non sarei In questa messa Sì Tu e me Bolle Guarda È un dolore Sì Ma Potresti venire Per il studio Ora Ho qualcosa Ok mostrami sta cosa Dai ci vediamo subito Ok inversione Andiamo allo studio Di Salomon Vediamo di che cosa Ha da dirci Ok eccoci arrivati Allo studio di Salomon Andiamo a vedere Che cosa Ha da dirci Siamo arrivati Come in Come in Thank you Thank you Thank you Turns out Maybe I'm cut out For the movie business After all Hello Nothing but Nothing but make believe Will ever feel Quite real Again All right Michael Come on Let me show you Some rushes I think you're gonna love it But it'd be great To hear your notes Hey baby I just wanted to tell you I'm finally doing something With my life I'm making a movie A real one Call me Bene Missione completata Ragazzi Ok Non è stata Anche questa missione Però va bene Dai Abbiamo aggiunto Un'altra missione Fine A questo capitolo Viene ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Appuntamento Mi raccomando Non manchiate E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti